bene la registrazione è avviata allora buonasera a tutte e a tutti e due parole di presentazione del del nostro ospite su sulla lezione di oggi che riguarda le fonti e la bibliografia sulla guerra russo-ucraina ricordo che gregorio de paolo è stato docente di storia e filosofia presso alcuni licei di pisa si è laureato alla scuola normale di quella città si è specializzato all'école normal superior di parigi è un quindi uno studioso di filosofia ha scritto diverse pubblicato diversi esaggi di studi filosofici su benedetto croce su attorno alla briola su sorelle di cui è uno specialista ma ha accompagnato il suo lavoro di insegnante con una vastissima opera di traduzione dal francese per grandi editori in audi la terza e anche per autori diciamo culturali come donzelli quanto alle grazie eccetera su opere di ernest renat emil zola mark bloc e tanti altri studiosi di recente insieme a rita bruschi ha pubblicato per ets nel 2021 una monografia giuseppe conte il carattere di una di una politica allora vi chiederete che ci fa uno 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 studioso di filosofia un un traduttore di opere filosofiche eccetera a parlarci del diciamo della guerra in ucraina vi spiego subito le ragioni speciali di questa mia scelta intanto ricordo che gregorio de paola è un grande studioso uno uno studioso che ama più ricercare che pubblicare più studiare che scrivere e che ha possiede una vastissima cultura umanistica da quando è scoppiata la guerra in ucraina non ha fatto altro che andare alla ricerca di fonti storici di materiali che illuminassero le cause di questa tragedia che sta insanguinando quella parte quella parte di di europa e in questi quasi due anni di guerra accumulato quindi una messa una messa notevolissima di materiali di prima di prima mano che può metterci a disposizione e questa questa scelta di uno storico di professione la trovo la trovo utile perché come dirà lui stesso poiché il tema è assai controverso e che divide diciamo anche intellettuali dello stesso campo ebbene diciamo rimanere più sul piano per quanto possibile della documentazione oggettiva dell'indagia delle fonti che non addentrarsi in una diciamo controversistica narrazione poi c'è un'altra ragione particolare quindi gregorio de pala può metterci a disposizione il risultato di queste sue ricerche e io ritengo questo fatto di grande utilità per per la nostra scuola la seconda ragione che io sono particolarmente favorevole quando è possibile coinvolgere nella scuola interdisciplinare cosmopolita non solo docenti universitari o intellettuale di grande visibilità ma anche insegnanti che sono che sono figure centrali importantissime nella nel nostro paese lo sono lo sono sempre state specialmente alcuni che sono particolarmente dotati e bravi allora non c'è bisogno di ricordarvi che la scuola l'istituzione culturale più importante del nostro paese e è il fondamento della nostra democrazia direi della nostra della nostra civiltà in questo momento è sotto attacco noi dobbiamo difenderla e valorizzarla piuttosto io continuo a lamentarmi del fatto che le le lezioni registrate non vengono valorizzate come meriterebbero e come sarebbe possibile e all'interno delle scuole ci sono lezioni sull'ambiente per esempio lezione su temi di carattere civile che sarebbero preziosi da da portare all'interno delle aule durante durante l'orario scolastico o a parte rispetto all'orario all'orario scolastico il lavoro prezioso che ha fatto morea roberto morea di sistemazione di di queste di queste lezioni registrate ci consente di avere un patrimonio un patrimonio una biblioteca online di straordinario valore che meriterebbe naturalmente di essere maggiormente utilizzata e valorizzata poche poche parole di introduzione al tema perché naturalmente ne parlerà ne parlerà gregorio io voglio ricordare questa cosa che ho scoperto da poco i greci i greci antichi creatori di una lingua geniale come sapete per significare per significare per esprimere il termine il termine indagare conoscere esplorare hanno coniato il termine cioè fare storia fare storia e conoscere diciamo nella lingua greca si identificano è un termine che usa che usa erodoto allora questo sta a significare che nel cuore della cultura occidentale c'è questa questa diciamo questa intelligenza semantica no di identificare la conoscenza dei fenomeni con la loro ricostruzione del passato con lo sguardo al passato d'altra parte io l'ho potuto ho potuto anche esaminare come storico dell'ambiente ne ho anche scritto ogni volta ogni volta che si presenta all'orizzonte un nuovo fenomeno che occupa la scena del presente gli studiosi dell'occidente volgono lo sguardo all'indietro e cercano di scoprire le cause che hanno condotto ai problemi del presente quindi ecco non no non a caso un grande storico della classe operaia inglese edward p thompson ha definito la storia la scienza del contesto vale a dire quella forma di sapere che indaga i fenomeni nella loro nei meccanismi casuali nei loro nessi nei loro intrecci profondi e quindi nel loro svolgimento temporale voi capite bene che adesso l'aveva aveva già detto marc blocco no a proprio a proposito delle guerre dove le menzogne si scatenano come come le armi da fuoco e non c'è modo di uscire dalla propaganda se non la la conoscenza storica la conoscenza storica può farci approdare a quel minimo di verità che è consentito da tutti noi che è consentito agli uomini se non c'è la storia sia una cronaca fallace noi ne abbiamo oggi una drammatica conferma non solo in tanti nei politici italiani ma anche nei politici europei perfino nel nei nei partiti socialisti socialdemocratici europei che rimangono alla cronaca relativamente a quanto accade in palestina quanto accade a gaza cioè si si riduce la storia di questi fatti la si fa partire dal 7 ottobre che è stata una cosa ovviamente orribile da condannare senza riserve ma la storia la storia del della persecuzione del popolo palestinese non è non è una reazione al 7 ottobre è una storia è una storia bene bene quindi io credo che sia sia dovere della della scuola interdisciplinare e cosmopolita dare un contributo di conoscenza storica a questo grande fatto che occupa ancora il cuore dell'europa do la parola a gregorio e torno a ringraziarlo per la sua disponibilità grazie gregorio vai allora no ringrazio te piero intanto per le belle parole che hai detto insomma e lo sai che ti sono grato per tutto quello che hai fatto a cominciare da questa scuola che hai messo in piedi che tiene avanti in questa scuola io mi sento un po un intruso insomma perché in genere sono specialisti diciamo ad occuparsi dei temi che espongono io come detto tu sono ignorante di queste cose sapevo pochissimo è vero per esempio che tangenzialmente di qualcuno di questi temi mi era capitato hai citato il saggio di blocco sulla guerra e le false notizie l'ho tradotto per donzelli insomma no come sai e quindi questo tema di del collegamento tra questi eventi terribili su cui proprio si forma blocco insomma e la strana percezione che abbiamo la percezione distorta è qualcosa che mi ha interessato ormai sono diversi decenni appunto che avevo tradotto però non è solo questo è il fatto che sono consapevole che stiamo attraversando un periodo epocale io ho l'impressione che il mondo stia deviando rispetto alla strada imboccata con la scoperta dell'america tanto per avere un'idea cioè si sta invertendo la direzione del mondo aperta con la scoperta di colonna e questo mi ha indotto a trascurare altre cose e a dedicarmi a cercare di capire partendo da un presupposto socratico la mia ignoranza rispetto a Socrate però sono stato più fortunato o in mezzo al frastuono generale all'ignoranza diffusa e non consapevole spesso anche se spesso è anche coperta da un vasto strato di furgizia di opportunismo quindi rispetto al mainstream come si chiama ho trovato diverse persone insomma che mi hanno aiutato a capire a provare a capire perché l'atteggiamento socratico deve essere sempre aperto alla confutazione molti sono di qualcuno vorrei fare il nome no a cominciare da John Mersheimer, Jeffrey Sachs, John Pilger e i francesi Alain Jouillet, Caroline Galacteros, Jacques Bo, un algerino straordinario che è Alain Benatalla, ex ambasciatore, persone che sanno ragionare, Chris Ages che ha messo in piedi che ha un sito su cui, ma tra tutti uno in particolare e a lui tra l'altro vorrei idealmente dedicare questa conversazione ed è Daniel Ellsberg che è morto qualche mese fa, il 16 giugno. Ricordavo vagamente chi fosse ma proprio questa ricerca e la circostanza della sua morte mi ha indotto ad approfondire di più. Potete leggere una bellissima autobiografia, una lunga intervista rilasciata al sito Eliou Seed, francese, poco prima di morire. Chi è questo Daniel Ellsberg? Ed è nel suo spirito, con l'animus che lui ha avuto, che io mi sono messo ad affrontare questi temi e che adesso, come dire, espongo i risultati di questa mia ricerca. È stato un vero americano, Marine, è stato un Marine, ad un certo punto ha partecipato, tra l'altro racconta di essersi salvato per un pelo da un bombardamento perché si trovava in Egitto durante la guerra appunto del 56 e poi va a lavorare al Pentagono, ai più alti livelli, ad altissimi livelli. Lui si occupa delle decisioni in situazioni difficili, dei processi decisionali in situazioni difficili, per cui ha accesso ai dossier segreti, non a quelli segretissimi, ce ne sono di diversi livelli, insomma, ai dossier segreti. Uno in particolare lo incuriosisce. Ed è il dossier che riguarda i processi decisionali degli Stati Uniti in Vietnam dal 1945 al 1968. Si domanda ma che ci facevano gli Stati Uniti nel 1945 in Vietnam? Beh, scopre che gli Stati Uniti finanziavano la Francia per continuare a portare avanti la guerra. i francesi di 1950 avrebbero voluto mollare, gli americani pagano i francesi per continuare a guerreggiare. Lo fanno perché gli americani non si percepiscono come un popolo colonialista, imperialista. E allora tengono segreti fin quando potranno questa vicenda. Man mano che la guerra in Vietnam si intensifica e diventa sempre più letale, ad un certo punto Daniel Hesberg decide di copiare di nascosto, fotocopiare alcuni documenti e di darli alla stampa. Prima di fare questo riunisce la famiglia e li avverte. Guardate, dice, quello che sto per fare molto probabilmente mi porterà in galera, il che significa che voi, figli, non potrete andare all'università. Lo faccio, dice, perché non posso resistere allo spettacolo di ragazzi che rifiutano di andare a combattere, mentre io sto qui e so come vanno le cose, insomma, e quindi mi renderei complice. Ritengo che questo sia una delle figure più tipicamente americane. Quelle che pur amando il proprio paese, e tant'è che lui lo serve come marini, poi è funzionario, insomma, ad altissimi livelli, ritiene necessario obbedire alla propria coscienza. Allora ritengo che sia una figura che oggi vada particolarmente valorizzata. E allora dice, cito due espressioni, perché vi dà anche idea di dove voglio andare a parare alla fine, in qualche misura, il punto d'approdo di questa mia conversazione. Sento disturbi, non so se la mia voce si sente. Pronto? Mi sentite? Sì, sì, Gregorio, vai, vai. Va bene. Allora dice, dice ad un certo punto, penso che dobbiamo operare un cambiamento nei nostri istinti nazionali, allontanandoci dal nazionalismo e capire che siamo un'unica specie sulla terra e preoccuparci della vita in generale, cose che gli esseri umani generalmente non fanno perché non è una caratteristica umana naturale preoccuparsi del destino della nostra specie. Insomma, non siamo nati imparati, ma possiamo impararlo. E infatti, dice, gli individui, le singole nazioni, hanno dimostrato la capacità di trasformare le loro vite, il loro ruolo nel mondo, ed è possibile. Il muro di Berlino è caduto, Mandela è arrivata al potere in Sudafrica, senza una rivoluzione violenta, la Francia e il Regno Unito hanno abbandonato le loro pretese imperialistiche. E aggiunge, per gli Stati Uniti non sarà facile partecipare al mondo su base paritaria con gli altri partecipanti. Questo è Daniel Heisberg, poco più di un anno fa, una delle ultime interviste che ha rilasciato. In fondo possiamo dire che molto probabilmente non conosceva Leopardi, ma ne ha colto il senso profondo, il messaggio. Assieme a Daniel Heisberg voglio ricordare un altro personaggio, di cui avete in documentazione, cioè Maglio Dinucci. Il Maglio Dinucci è lui che mi ha offerto, casualmente, non volendo, il bandolo che esporrò a voi, da cui sono partito per cercare di districarmi in questa situazione complessa. Di lui direi tra breve. Un altro che voglio ricordare, anche di lui avete nella documentazione che ho mandato ben tre saggi, è Alberto Bradanini. Scusa Gregorio, scusa, devo dire a Giulio Papa, Andrea, Maurizio, di chiudere il proprio audio, altrimenti la tua voce giunge disturbata. Chiudete per favore Adriano Serafino, chiudete il vostro audio. Andrea, vai. Volevo il terzo, quindi Daniel Heisberg, Maglio Dinucci, il terzo è Alberto Bradanini, è un ex ambasciatore in Cina, uno di quegli intellettuali, Silvio Servant come si chiamano, che è presente nel nostro paese e che indirettamente, non lo conosco di persona, mi ha incoraggiato, mi ha aiutato, perché nel corso di questo viaggio che ho fatto ho incontrato alcuni personaggi che mi hanno colpito particolarmente. Quando ne parlo ad alcuni dei miei amici, anche a Piero vedo una certa, come dire, perplessità. Chi è? Eduard Bernays, Walter Lippmann, lo stesso Jacques Bo, Emmanuel Todd. Bene, io ho selezionato tre saggi dedicati alla macchina della propaganda in cui partendo proprio da Eduard Bernays e Walter Lippmann, Bradanini dimostra la stessa attenzione, la sintonia per così dire che abbiamo avuto, un altro lo dedica a Jacques Bo, che è uno dei maggiori studiosi di quello che sta avvenendo, e l'altro è Emmanuel Todd, un altro intellettuale francese di cui avete materiali e quindi sapete un po' chi sono questi, o meglio cominciate a sapere. E quindi in Bradanini ho trovato una straordinaria sintonia, insomma, ma veniamo più direttamente al nostro tempo. Di fronte a quello che sta capitando, a quello che si dipana sotto i nostri occhi, ci sono due espressioni che vorrebbero non solo essere interpretazioni, ma quasi inizio e fine del discorso che riassumono a mio parere la catastrofe intellettuale e morale del nostro tempo. Due espressioni, le due espressioni che dominano la narrazione, come si dice, della guerra in Ucraina, e sono aggredito e aggressore, democrazia contro autocrazia. La prima, sappiamo chi è l'aggredito, sappiamo chi è l'aggressore, cancella la storia, come hai detto Piero, no? Ci si ferma nell'immediatezza e con ciò si pensa di aver esaurito il problema, non solo di aver esaurito, ma di poter essere in grado di partire e dare una risposta. Si cancella la storia. Con l'altra espressione, democrazia contro autocrazia, si cancella la filosofia. La filosofia in quanto mira alla chiarificazione dei concetti, a rispondere alla domanda, ma di che cosa stai esattamente parlando? E allora il mio discorso si svolgerà lungo due filoni. Com'è la storia di aggredito e aggressore? E che cosa sono esattamente la democrazia americana e l'autocrazia di Putin? Ma prima di rispondere vorrei dire che in realtà la demistificazione, lo smontaggio di questa impostazione lo si può fare a diversi livelli. a diversi livelli. Intanto noto che si tratta di concetti che invece di essere strumento di lettura della realtà, della sua rugosità e complessità, della sua contraddittorietà, del manzoniano garbuglio o dell'ognomero, come piace di gaddiana memoria, ci troviamo di fronte ad una forma di platonismo d'accatto, che riduce appunto questa realtà alla pura essenza. E siccome sono espressioni ad alto contenuto assiologico, valoriale, che suscitano immediatamente emozioni, ecco che siamo portati quasi pavlovianamente a schierarci, bene contro male. E con ciò il discorso è fatto insomma. Eppure basta poco per sottrarsi a questa trappola. Basta intanto ricordare che la nostra civiltà nasce proprio alla civiltà, diciamo la nostra cultura, la modernità come la chiamiamo, nasce proprio mettendo in discussione le evidenze, le condensate evidenze. Cosa c'è di più evidente che la terra sta ferma ed è il sole che si muove? Copernico e Galileo ci hanno spiegato che non è così. Anche se forse tirare in ballo Galileo non è di buon auspicio perché sappiamo come va a finire a chi si mette contro le evidenze. Però Galileo ci ha ricordato che accanto alle sensate esperienze ci vogliono le necessarie dimostrazioni. Ma ce l'aveva detto anche Machiavelli, Machiavelli, alcune citazioni. Non quello che prende prima le armi è cagione degli scandoli, ma colui che è primo a dar cagione che le si prendino. È un'espressione di Machiavelli. E poi un'altra, di un altro storico, questa l'ho trovata citata ma ho controllato la fonte scaricando nel giro di pochi minuti, ed è divertente farlo, la storia della rivoluzione francese da Gallicà. Si tratta dello storico François-Auguste Mignet che dice il vero autore della guerra non è colui che la dichiara ma colui che la rende necessaria. In realtà la prima cosa che mi è venuta in mente davanti a questa, alla vicenda dell'Ucraina, non sono stati né Machiavelli né Mignet. È stato il nostro vecchio Manzoni, insomma. In un brano che ho letto appunto ad alcuni amici è che vale la pena rileggere. L'ho trovato sia nella versione di Fermo e Lucia sia nella versione dei Promessi Sposi e vale la pena soffermarsi perché lui stesso si sofferma in queste pause che vorrebbero essere un invito appunto a riflettere piuttosto che a correre e ad arrivare a conclusioni approssimative. Siamo, come ricorderete, forse nel matrimonio a sorpresa. Renzo e Lucia ostacolati con vari pretesti da donna Bondio e scogitano di presentarsi all'improvviso e di dichiararsi questo è mio marito, questa è mia moglie e con ciò il matrimonio sarebbe stato valido. Come ricorderete se ne accorge all'ultimo minuto donna Bondio, tira la tovaglia, salta tutto e Renzo e Lucia sono costretti a scappare. E dice Manzoni, in mezzo a questo serra-serra non possiamo lasciar di fermarci un momento a fare una riflessione. Renzo che strepitava in casa altrui, che vi si era introdotto di soppiatto e teneva il padrone stesso assediato in una stanza, ha tutta l'apparenza di un oppressore. Eppure alla fin dei fatti era l'oppresso. Donna Bondio sorpreso, messo in fuga, spaventato mentre attendeva tranquillamente ai fatti suoi parrebbe la vittima. Eppure in realtà era lui che faceva un sopruso. Così va spesso il mondo, voglio dire, così andava nel secolo decimo settimo. Così va anche oggi probabilmente. Ma accanto a queste citazioni ci sono due esempi famosi, mi vergogno pure a ricordarli, di guerre dichiarate ma facendosele dichiarare. E sono legate alla nostra storia, si trovano in tutti i manuali di storie. Ed è uno Cavour. Ricordate Cavour fa l'accordo con Napoleone III ma ha bisogno di un pretesto perché la guerra deve apparire difensiva. E allora chi ha voglia di andare un po' su internet e di cercare la lettera del 24 luglio 1858 troverà una lunghissima lettera appunto a Vittorio Emanuele II in cui racconta del suo incontro con Napoleone è gran parte dedicata a trovare un pretesto. E sono divertenti le obiezioni che gli fa Napoleone che gli dice ma insomma questo non mi sembra sufficiente per scatenare una guerra e passano in rassegna. Napoleone III? Come? Non si sente? Napoleone III? Sì Napoleone III certo Napoleone III sì e passano in rassegna i pretesti per farsi dichiarare guerra dall'Austria. L'altro è Bismarck il dispaccio di Emsen insomma. Ha bisogno della solidarietà dei tedeschi da aizzare contro i francesi, modifica una banalissima dichiarazione dopo l'incontro con l'ambasciatore francese, suscita il stuzzica l'orgoglio di Napoleone e Napoleone dichiara guerra. Cade lui stesso vittima del tranello che aveva teso all'Austria. E dunque che le cose non siano così evidenti ma che dietro le vicende bisogna andare a scavare ormai ce l'ha detto, ce lo dice un minimo insomma di consapevolezza storica. Ora di fronte a questa guerra c'è una situazione particolare perché non solo era stata predetta ma abbiamo i documenti per cui era stata pianificata. E allora tra i documenti che vi ho mandato ci sono appunto un articolo di uno dei maggiori specialisti in materia che abbiamo in Italia, Lucio Caraccio e l'articolo di Maglio Di Nucci. Cominciamo dal primo, vedo se lo trovo, perché praticamente qui c'era già tutto. Il 12 aprile del 2021 Lucio Caraccio aveva già predetto quello che sarebbe successo. E allora è questo un articolo pubblicato ahimè su una rivista del del canton ticino ma che andrebbe incorniciata e letta ogni giorno perché praticamente c'è tutto. Bene leggo i punti fondamentali. Comincia così. Gli Stati Uniti hanno deciso di buttare fuori pista la Cina entro questo decennio. Dunque l'iniziativa parte dagli Stati Uniti. vedremo poi perché. La Cina ha giocato la carta russa per impedirlo stringendo una quasi inedita intesa con la Russia. E allora cosa fare? Gli Stati Uniti sono incerti. La prima sarebbe quella di giocare la più debole contro la più forte, allearsi cioè con l'una per attaccare l'altra. La seconda più rischiosa sta nel liquidare prima la Russia per poi chiudere il match con la Cina ormai isolata. Io lo so già colpisce come dire se volete la fredda la fredda esposizione di come stanno le cose. Certo ancora non era scoppiata la guerra. Un articolo passato sostanzialmente così senza suscitare particolari particolari reazioni ma insomma è questo. E continua dicendo. Dopo aver inflitto nel 2014 una sconfitta storica Putin trovato con la Guardia Bassa in Ucraina e quindi ormai costretto nel ridotto del Donbass e della Crimea i paesi della Nato baltica e russofoba sentono prossima la vittoria. Che per loro come per gli americani significa la disintegrazione della Russia sulle orme del collasso sovietico del 91? Anche questo è qualcosa che non emerge nel dibattito attuale. Cioè che l'obiettivo vero di tutta la vicenda complessa che sta accadendo è la sconfitta e la disgregazione della Russia. E continua ancora. Washington è decisa a interrompere in un modo o nell'altro il progetto del raddoppio del gasdotto Nord Stream. Pensate quante trasmissioni, discussioni, dibattiti si sono aperti su chi è il responsabile del sabotaggio al gasdotto. E finisce l'articolo così. E la Russia non va troppo per il sottile. In caso fosse alle strette, Mosca sarebbe pronta la guerra, perché ne andrebbe della sua stessa sopravvivenza. Nel frattempo, come d'antico costume, si preoccupa di allacciare o riallacciare relazioni proficue, eccetera, eccetera. L'articolo, ripeto, è del 12 aprile 2021 pubblicato sulla rivista Azione di Migros del canton Ticini. Verrebbe da dire ma questa decisione è una decisione improvvisa. Subito dopo lo scoppio della guerra, Maglio Di Nucci pubblica un articolo sul manifesto. L'articolo dura poche ore, poi viene ritirato. Nella documentazione che vi ho inviato c'è la lettera sia di Di Nucci sia del direttore del manifesto in cui vengono esposte le rispettive ragioni. Ora, la cosa strana è che Maglio Di Nucci ripete praticamente pari pari quello che aveva scritto in un altro articolo nel 2019. E nel 2019 Maglio Di Nucci rendeva conto, rendeva conto di un documento che io, ecco, diceva Piero dei documenti, ho scaricato perché sono di libero accesso nelle due versioni. La versione breve, poche decine di pagine, e la versione lunga invece, oltre 300 pagine. Il titolo, io non so come suona alle vostre orecchie, alle mie suona come una dichiarazione di guerra. Overextending and unbalancing Russia. Extending Russia. Sovrastressare e sbilanciare la Russia. E vengono elencate una serie di misure. Siamo nel 2019. Siamo nel 2019. Una serie di misure tendenti appunto a provocare il collasso della Russia. Vale la pena ricordarle perché la guerra di Crimea, la guerra scusate di Ucraina, si colloca all'interno di una serie di misure. Alcune vi suoneranno familiari. Alcune vi suoneranno familiari. Alcuni ci riguardano direttamente. Che hanno un unico obiettivo, come c'è scritto. È qua. Ecco, è qua. Non so se si legge bene. Questo sono 300 pagine. Ed è qui. Allora, esamina appunto come sovrastendere, dice, sbilanciare l'economia e le forze armate della Russia. E dice, allora, parte dall'analisi. È uno degli studi più dettagliati sulla natura, sulle carattere, punti di forza e di debolezza appunto della Russia. E dice, la Russia di oggi soffre di molte vulnerabilità. Prezzi del petrolio e del gas ben al di sotto del picco, che hanno causato un calo di standard di vita, sanzioni economiche, una popolazione che sta invecchiando, un crescente autoritarismo. Tali vulnerabilità sono accoppiate a profonde ansie circa la possibilità di un cambio di regime ispirato dall'Occidente. Anzi, rispetto alla perdita dello status di grande potenza e persino di un attacco militare. Il lavoro, dice, si basa sul concetto di competizione strategica a lungo termine durante la guerra fredda, alcuna dei quali sono nati dalla RAND. La RAND è questo istituto research and development, mi pare. Sono andato a vedere di che si tratta. È un think tank, come si dice, con qualcosa come 300 milioni all'anno di finanziamento. sono pagati appunto per elaborare piani, diciamo, che garantiscano, come vedremo meglio più avanti, la supremazia appunto degli statuti. E allora vengono elencate quattro tipi di misure. Misure economiche, misure che impongono costi geopolitici, misure ideologiche e informatiche, misure aerospaziali, militari, insomma, eccetera. Vi leggo le prime. Misure economiche che impongono costi, espandere la produzione di energia negli Stati Uniti, imporre sezioni commerciali e finanziarie più profonde, aumentare la capacità dell'Europa di importare gas naturale liquido da fonti diverse dalla Russia, siamo al 2019, incoraggiare l'immigrazione dalla Russia di mano d'opera qualificata e giovani ben istruiti. Secondo, misure che impongono costi geopolitici. Fornire aiuti letali all'Ucraina sfrutterebbe il più grande punto, attenzione, il più grande punto di vulnerabilità esterna della Russia. Attenzione ancora all'avvertenza, ma ciò dovrebbe essere attentamente calibrato per aumentare i costi per la Russia di sostenere il suo attuale impegno senza provocare un conflitto molto più ampio, in cui la Russia, a causa della sua vicinanza, avrebbe vantaggi significativi. Attenzione, bisogna spingere le provocazioni fino al punto, non fino al punto da suscitare una guerra, ma da stressarla. Aumentare il sostegno ai ribelli siliani, promuovere la liberalizzazione in Bielorussia, espandere i legami nel Caucaso meridionale, ridurre l'influenza russa in Asia centrale, ribaltare la Transnistria ed espellere le truppe russe. Terzo, misure ideologiche e informatiche che impongono costi, diminuire la fiducia nel sistema elettorale russo, creare la percezione che il regime non stia perseguendo l'interesse pubblico, incoraggiare le proteste esterne, minare l'immagine della Russia all'estero. Credo che in questo siano riusciti abbastanza bene. Infine, e non sto che sta ad esaminarle, misure aerospaziali che impongono costi e così via. 2019. In realtà questo ampio e dettagliato documento non è il risultato di un cambiamento improvviso della strategia americana, anzi è strettamente legato alle scelte di fondo che vengono fatte all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica e che va sotto il nome di dottrina Wolfowitz. Anche lì vi ho fatto avere, ma sono di facile reperibilità, non sono... due documenti vennero recapitati al New York Times, appunto una prima versione mi pare l'otto marzo, è subito commentata con alcune perplessità. Gli Stati Uniti sono così, sono un paese insomma in cui la libertà di stampa, come abbiamo visto con Ellsberg stesso, a volte riesce a raggiungere i suoi accretti. E quali sono i punti cruciali della strategia degli Stati Uniti all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica? Si articola come potete vedere, non sto perché le cose da affrontare sono tante, non vi voglio annoiare, ma sono sostanzialmente tre, forse quattro, vediamo. Prima cosa, diventare l'unica potenza senza dover rispondere a nessuno, in particolare all'ONU. Quindi il primo punto è l'emarginazione dell'ONU. L'idea di poter... è troppo noioso, insomma, troppo faticoso, ha procedure lente o tenerico. Quindi se l'ONU è d'accordo con noi, benissimo, altrimenti facciamo da soli. Quindi la prospettiva di fare da soli. Il secondo punto è quello di continuare a considerare la Russia l'avversario più pericoloso. Il terzo punto è impedire che l'Europa possa fare da sé sul piano della difesa e quindi tenere sotto controllo i due più importanti rivali storici, sono i due paesi sconfitti, Giappone e Germania. Contenta appunto di essere riuscita a coinvolgere in chiave subordinata in chiave subordinata appunto alla propria strategia. Questa, diciamo, scelta di fondo trova ampia dimostrazione e attuazione, troverà ampia dimostrazione e attuazione negli anni successivi. Ha già cominciato ad operare nella prima guerra dell'Iraq, ma poi è la guerra della Jugoslavia, nella seconda guerra dell'Iraq, nell'attacco all'Afghanistan, si muoverà secondo le proprie esigenze senza ritenere di dover rispondere a qualcuno. Se non che questa scelta trova una ulteriore e più precisa elaborazione in altri due documenti che vale la pena ricordare. Uno è la nascita proprio di una filosofia, diciamo, di questa nuova posizione degli Stati Uniti nel mondo ed è il cosiddetto PNAC, Project for New American Century. Qui si viene a coagulare il gruppo dei cosiddetti neocon, neoconservatori, i quali si dotano di un manifesto, troviamo sempre alcuni personaggi, insomma, che vedremo. Tra l'altro, a volte, per esempio, tra gli ideatori di questo manifesto c'è il suocero di Victoria Nuland, che è una delle maggiori protagoniste di quello che è responsabile sostanzialmente della politica americana in Europa e in Ucraina in particolare. Questo gruppo di studiosi si ripropone quattro missioni. Difendere i possedimenti americani, lottare e vincere guerre multiple e simultanee, realizzare lavori di polizia associati alla manutenzione della sicurezza in regioni critiche, trasformare le forze armate per sfruttare la rivoluzione nel campo militare. Sono animati da che cosa? Volendo riassumere, troviamo tre linee, diciamo, che hanno caratterizzato l'ideologia, la politica di gran parte della tradizione americana e che ci porta ad interrogarci sulla natura di questo grande e straordinario paese. Il suo eccezionalismo è la nazione indispensabile e questo viene teorizzato in questo documento che è appunto l'atto di nascita di quello che si poi tradurrà in un preciso progetto fatto anche di ricerca di finanziamenti che porta ad avere gli Stati Uniti a praticamente a spendere da soli quasi metà del budget mondiale per la difesa, tra 800 e 1000 miliardi all'anno. Il secondo è il guilzionanessimo, cioè l'idea di una specie di messianessimo, di necessità di proiettarsi all'esterno, e di straussismo, Strauss, Strauss, il grande studioso di filosofia politica, di cui viene valorizzata, valorizzata in particolare l'idea che alla gente, dice, l'efficacia delle bugie nella politica, trovo insomma, sarebbe interessante appunto tornare e avere maggiori chiarimenti sull'ispirazione di questa corrente. Nello stesso 1997 viene pubblicato un libro chiave, uno di quelli la cui lettura mi ha scioccato, insomma è stata una lettura, ed è il libro di Zbigniew Brzezinski, la grande scacchiera, la grande scacchiera, in cui delinea con un'abilità straordinaria le grandi linee della politica americana. Tra l'altro mi ha colpito il fatto che l'Italia non viene neanche menzionata, non è neanche un partner di secondo livello. viene di nuovo ricordato che gli Stati Uniti, la Russia, è ancora il grande avversario da sconfiggere, gli altri da tenere sotto controllo, e l'idea insomma che gli Stati Uniti abbiano tutti i mezzi e tutti i diritti di programmare il governo sostanzialmente del mondo. Programmare il governo del mondo. L'idea di fondo, come dire, accanto al realismo, certamente è un po', come dire, quasi favolistica, insomma, è quella cioè che alla fine tutti vissero vassalli e contenti, perché l'idea è quella di farsi guidare, farsi guidare appunto dagli Stati Uniti, in posizione subordinata, insomma. Come intendesse realizzare questo progetto, lo troviamo esposto in una intervista, che anche questa mi sembra estremamente significativa, vediamo se riesco a trovarla, che Rilascia, Bresisti rilascia nello stesso anno. E questa trovate tra i documenti allegati. È una paginetta, un'intervista breve, ma importantissima. Poco tempo prima, l'ex direttore della CIA, Robert Gates, aveva scritto in un libro che gli americani avevano cominciato ad aiutare in Afghanistan i Mujahideen ben prima dell'invasione sovietica. E chiede a Bresisti se questo è vero. E Bresisti dice sì. La versione ufficiale è che l'aiuto ai Mujahideen è cominciato nel 1980. In realtà è cominciato prima. E dice ma avete valutato il rischio? Sì, dice abbiamo valutato il rischio. E abbiamo scelto scientemente di aumentare la possibilità, la probabilità che i russi invadessero l'Afghanistan. E come mai? Ecco, gli dice, ma rimpiangere cosa? Quest'operazione segreta era un'idea eccellente. Essa ha avuto per effetto di attirare i russi nella trappola afghana. E volete che io lo rimpianga? Il giorno in cui i sovietici hanno ufficialmente varcato la frontiera, ho scritto al presidente Carter in sostanza. Adesso abbiamo finalmente l'occasione di dare all'Urso la sua guerra del Vietnam. E in effetti, dice Mosca, ha dovuto portare avanti una guerra di dieci anni che l'hanno devastata, l'hanno indebolita. E la domanda dice ma rimpiangete allora di aver favorito l'integralismo islamico, di aver dato armi, consigli a futuri terroristi? E la risposta di Brzezinski è terribile, è terribile. Almeno io la trovo tale. Cos'è più importante, dice, rispetto alla storia del mondo? I talibani o la caduta dell'impero sovietico? Alcuni eccitati islamisti o la liberazione dell'Europa centrale è la fine della guerra fredda? E dice ma il fondamentalismo islamico rappresenta oggi una minaccia mondiale, conclude l'intervista Brzezinski. Ciocchezze. Bisognerebbe che l'Occidente abbia una politica globale nei confronti dell'islamismo. È stupido. Non c'è islamismo globale. Se guardiamo l'islam in maniera razionale, non demagogico, ecco, è la prima religione del mondo. Ma che cos'hanno in comune l'Arabia Saudita fondamentalista, il Marocco moderato, il Pakistan militarista, l'Egitto pro-occidentale o l'Asia secolarizzata? Niente di più che unisce i paesi della cristianità. della cristianità. Dunque c'è una politica che, dobbiamo dire, funziona. Perché fino al 2022 questa politica ha funzionato. Ha funzionato. Andando a leggere i commenti a questa posizione di Brzezinski, si nota che in realtà gli vengono mosse due obiezioni, che sono quelle che ci riportano all'Ucraina. Cioè di avere portato avanti questa strategia non tenendo presente tre cose. Primo, l'indebolimento degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti oggi non sono più la potenza di qualche decennio fa, di qualche anno fa. Hanno delle debolezze. La più importante, possiamo dire, è la deindustrializzazione. si accompagna a forti disuguaglianze interne che portano ad una... Anche lì, l'abbiamo visto con le elezioni sofferte dello scontro Biden-Trump, insomma, una serie di debolezze. E non ha tenuto conto della rapidità con cui si sarebbe rafforzata la Cina, che diventa adesso il vero grande competitore. Ma perché l'Ucraina? E perché l'Ucraina diventa appunto il luogo in cui si concentra e si condensa, per così dire, lo scontro mondiale? In realtà il rapporto ucraina, cioè il ruolo che ha avuto l'Ucraina per gli imperialismi, è una pagina che da sola richiederebbe una lunga analisi. L'Ucraina presenta sia condizioni oggettive, sia soggettive, sia simboliche, per farne davvero, come nelle letture geopolitiche di Mekinder, per esempio, il fulcro sostanzialmente del dominio del mondo. La collocazione, centrale nel continente eurasiatico, l'ampiezza, le risorse, qualcuno definisce la caverna di Alibaba, simboliche, perché rappresenta la culla di nascita della Russia, e soggettive, cioè in Ucraina c'è una forte tradizione di un etnonazionalismo antirusso. Allora, nel momento in cui, soprattutto dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica, ma in realtà il discorso parte anche prima, e riguarda proprio i rapporti complessi che l'Ucraina ha avuto all'interno dell'Unione Sovietica, il processo di nation building, perché le Ucraine esistono come popolo e hanno diritto, pienamente diritto, di ergersi a nazione. Io sono a favore delle nazioni, delle nazioni aperte, nazioni disposte alla collaborazione, ma ritengo, come non tantissime altre, ma come alcuni sostengono, che la nazione sia un elemento fondamentale dell'aggregazione dei popoli, delle comunità. Sennò che ci sono diversi tipi di nazionalismo. Bene, per una serie di circostanze, che casomai, se c'è qualche domanda, poi possiamo approfondire, in Ucraina i sostenitori del nazionalismo sono particolarmente radicali e anti-russi. La possibilità di sfruttare questa realtà si fa strada già all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Chi volesse approfondire trova diverse lezioni della importante storica francese Anne Lacroix-Risse, dedica ben cinque lezioni per un totale di quasi sette, otto ore, a ripercorrere sia il ruolo che ha avuto l'Ucraina all'interno degli imperialismi. I tedeschi, gli stessi francesi e i russi, la Russia, hanno aspirato sempre al controllo dell'Ucraina e delle sue risorse. E d'altra parte l'Ucraina appunto diventa una parte importante della Russia. Tant'è che, come lo stesso Brinsischi ricordava, l'amputazione dell'Ucraina alla Russia ne modifica profondamente profondamente la natura e lo rende sostanzialmente un paese più asiatico che europeo. Taglia, taglia il cordone, la proiezione con l'Europa. Allora cosa succede? Succede che nel momento in cui, in questi ultimi trent'anni possiamo dire, sarebbe stato necessario procedere con grande accortezza, alla ricomposizione di fratture che la storia ci ha lasciato, a rendere compatibili queste fratture con le legittime espirazioni dei popoli alla collaborazione e invece è stato scelto di incuneare questo coltello per così dire per arrivare alla dissoluzione non solo dell'Unione Sovietica ma anche della Russia. chi volesse divertirsi si fa per dire provi a vedere a buttare su Google Decolonization Russia e trova che negli ultimi due anni ci sono stati ben cinque maxi convegni dedicati a prospettare quello che può essere la Russia dopo il crollo dopo il crollo appunto dopo la sconfitta militare auspicata e prevista diciamo dalle vicende dalle vicende che si stanno sforzendo se non che tra i documenti che trovate ve ne ho messo uno di un personaggio che non è anzi io ci sono arrivato per caso ma che è un personaggio di assoluto rilievo ed è Sergei Glaziev per darvi un'idea Sergei Glaziev è ucraino nato in Ucraina a Zaporige per l'esattezza ma che si sente tutto russo tant'è che è stato ministro ministro per l'integrazione euro-asiatica attenzione a questa a questa a questa a questa sua attività il quale nel 2016 pubblica un libro facilmente scaricabile anche quello da 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 internet è questo è questo il libro The Last World War sottotitolo The Use To Move and Lose l'ultima guerra mondiale la Russia gli Stati Uniti muovono e perdono perché è importante l'Asia perché nel 2016 siamo all'indomani della delle vicende di piazza maitana io vi ho tra le tra i documenti che ho mandato eh ho messo il link ad una ad una lunga dura un'oretta insomma ricostruzione delle vicende dell'Ucraina per cui dal punto di vista dal punto di vista del delle vicende potete vedere lì tra l'altro le ho eh utilizzando anche internet traslitterato la correzione non è perfetta eh dovuto fare tutto in fretta l'idea mi è venuta alla fine appunto di eh offrire questo materiale per cui potete trovare le vicende legate legate al colpo di stato sostanzialmente del 14 insomma che accentua eh da una svolta ad un progetto che è iniziato prima se non che Glasiev cosa fa nel 2016 intanto ritiene come aveva ritenuto eh Brancaccio ma se è Brancaccio l'altra volta per cui il mio discorso si ricollega in qualche misura a quello che lui aveva portato avanti e cosa succede succede che eh Glasiev mostra come la Russia si sia preparata a questo scontro attenzione non l'abbia cercato perché viene fuori anche dalle cose che vi ho che vi ho mandato come la vicenda dell'Ucraina sia terribilmente dolorosa per la Russia e quando spiega ecco perché la scelta ma ripeto americana di puntare sull'Ucraina per indebolire la Russia individua alcune alcune circostanze che vi leggo no eh che esprimono grande lucidità scrive Glasiev la scelta dell'Ucraina da parte degli Stati Uniti come trampolino di lancio per scatenare una guerra in Europa si spiega con una combinazione di fattori unici attenzione alla prima l'impossibilità per la Russia di intraprendere una vera e propria guerra con l'Ucraina come parte del nucleo mondiale russo impossibilità per la Russia di intraprendere una vera e propria guerra anche questo dirò brevemente poi cerco di chiudere e lasciare spazio caso mai a domande vi dico appunto e e quindi impossibilità di intraprendere una vera e propria guerra la tradizione geopolitica europea che vede la separazione dell'Ucraina dalla Russia come obiettivo strategico chiave per indebolire e sottomettere quest'ultimo il grande significato culturale storico di Kiev la cui separazione dalla Russia gli infrigge un danno morale irreparabile la possibilità di scatenare la guerra per mano dell'esercito ucraino senza gravi perdite per gli Stati Uniti la dipendenza dell'economia russa comprese le imprese appaltatrici della difesa la cui rottura le causerà un danno sostanziale allora due cose velocemente sarebbe facile dimostrare come fino alla fine Putin abbia cercato di evitare questa guerra chiedendo ripetutamente il rispetto degli accordi di Minsk e come da recenti dichiarazioni di Hollande della Merkel che non hanno avuto grande circolazione questi accordi siano stati firmati come dire con retropensiero di non rispettare e quindi di indurre la Russia a un passo falso appunto attaccare ora l'attacco è avvenuto con una doppia l'inizio della guerra è la mia lettura è avvenuta con una duplice ipotesi che si è rivelata in Tram una duplice ipotesi che si è rivelata in Tram la Russia ha inizialmente e lì sarei per dare ragione all'accettare la definizione di Putin di operazione militare speciale perché secondo la mia interpretazione Putin sperava che dopo le prime esibizioni muscolare si potesse arrivare subito alle trattative e risolvere diplomaticamente una questione che è complessa e spinosa poi se vogliamo ne riparliamo viceversa viceversa l'Ucraina sperava che non sul piano militare ma sul piano delle sanzioni delle difficoltà interne la Russia potesse implodere sono state tutte e due le ipotesi si sono rivelate false e il risultato è la continuazione della guerra che non sappiamo dove andrà a parare io ho l'orologio davanti vedo che ho già impiegato più di quanto allora voglio voglio provare a prospettare due cose cioè quello che è davanti a noi non è solo il problema di come di come finisce questa guerra che è già una cosa di per sé enorme ma che in realtà soprattutto nella lettura che vi dà Glazier e io ho lasciato ho lasciato anche lì ho messo insomma alcuni documenti quello che si prospetta diciamo davanti è un problema molto più ampio e che riguarda l'assetto mondiale e i sistemi socio-economici nella intervista nella intervista che ho allegato appunto tra i documenti c'è una che riguarda proprio il progetto di creazione di una moneta unica tra i paesi del BRICS o il sud il sud collettivo come viene chiamato e cioè in definitiva la possibilità di creare un'area diciamo di collaborazione un'area integrata economica con paesi in particolare la Cina in cui facendo lezione sia dell'esperienza del socialismo sovietico sia del capitalismo si possa prendere per così dire il meglio dei due cioè la produttività e l'efficienza del capitalismo ma anche la capacità di direzione che aveva cercato di mettere in piedi l'unione sovietica e la Cina lo sforzo non so se riuscirà ma da quello che mi è parso di capire Glacev cerca di progettare un mondo fuori dalla tirannide del mercato e questa è la sua idea chiave attenzione perché questa idea si accompagna anche è l'aspetto debole debole o meglio problematico per noi debole non lo so e quello cioè di accompagnare questo progetto economico con il recupero di valori tradizionali il patriarcato la famiglia tradizionale e così via una strana mescolanza che però rimanda ai problemi che abbiamo davanti perché quando parliamo dell'Iran quando parliamo della Cina siamo davanti a civiltà diverse dalla nostra e allora lì ecco la presenza di Emanuel Todd perché Emanuel Todd è un grande demografo tra l'altro aveva previsto sulla base sulla base della di una serie di parametri tra cui la mortalità infantile aveva previsto il crollo dell'Unione Sovietica e adesso lui ha oltre trent'anni quarant'anni dal suo primo libro nota una cosa che nella Russia di Putin alcuni dati la mortalità infantile l'occupazione il tasso di omicidi e di suicidi è migliore di quello l'aspettativa di vita è migliore di quello degli Stati Uniti allora lui ne trae la conclusione che negli ultimi anni la Russia aveva trovato un suo equilibrio lui lo chiama di democrazia autoritaria è però sostanzialmente un paese che non aveva nessuna nessuna intenzione di progetti imperialistici questo argomento viene particolarmente affrontato nel documento che vi ho dato anche lì traslitterato e tradotto di un personaggio che ho imparato ad ammirare molto Bruno Drveschi è un polacco che insegna all'INALCO a Parigi specialista dell'Europa occidentale e orientale il quale sostiene l'inesistenza per impossibilità non per bontà d'animo dell'imperialismo russo analizza le articolazioni interne della società russa per arrivare alla conclusione che si tratta di un nazionalismo difensivo di una società che per la sua enorme ampiezza 17 milioni di chilometri e la sua scarsa popolazione ha bisogno piuttosto di trovare un equilibrio interno che non di proiettarsi in avventure che non hanno senso per lei e allora ecco è tardi volevo accanto a questo citare l'ultimo gruppo di documenti che vi ho dato perché di tutte queste cose che sto dicendo anche per me anche per me insomma non se ne parla il dibattito pubblico gira attorno ad altre cose insomma allora lì vi consiglierei di leggere la macchina della propaganda il primo mi pare dei saggi di alberto bradanini che è straordinario io ho scoperto in realtà l'avevo scoperto prima di lui ma ho trovato conferma che è un secolo che gli americani da wilson in poi dal krill committee da walt lipman da questo libro che io ho da tanti anni ma che ho riletto adesso con un altro animo con un'altra hanno imparato a manipolare l'opinione pubblica e questa capacità di manipolazione è arrivata anche a noi risultato non siamo più in grado di leggere la realtà io non voglio assolutamente pretendere di aver come dire convinto di aver dimostrato tutto ci sono un sacco di cose ancora però quello che vorrei lasciando anche spazio eventualmente a qualche domanda alla discussione provato perlomeno a sollecitare ad aprire gli occhi c'è un termine che ho imparato in questi giorni whistleblower i soffiatori di fischietto quelli che ci vogliono avvertire di non prendere per olocolato quello che è una potentissima macchina della propaganda vuole farci pensare di pensare con la nostra testa insomma io avevo dato dei documenti mi sarebbe piaciuto come dire che si discutesse solo su questa base non su quello che vi dico io ma se questo porterà a dare un'occhiata e a riaprire il discorso Piero perché ognuno di questi capitoli anche il libro di Serglie Iglaziev i libri il problema della costrofabbrica del consenso sono temi su cui occorrerà tornare a riflettere chiudo perché ho già fatto tardi insomma taglio un sacco di cose ma insomma grazie della vostra pazienza grazie Gregorio bellissima splendida lezione abbiamo imparato un sacco di cose hai soprattutto dominato un materiale molto vasto e l'hai esposto con con limpida chiarezza allora chi vuole intervenire io credo che questa lezione questa lezione davvero meriterà di essere diffusa e fatta circolare perché è disvelatrice no di un pezzo di storia su cui è calata una menzogna propagandistica che acceca l'intera elite culturale e politica europea e occidentale la acceca letteralmente chi vuole intervenire Piero e voglio dire due cose brevemente vai Gigi Gigi Luigi va va là innanzitutto ringraziare assai Gregorio perché per l'ampia visibilità che ha lavorato questi anni ma la visibilità che ci ha dato è enorme ampia e quindi ha toccato parte da Wilson parte da insomma la potenza americana che vuole continuare a dominare il mondo e adesso è fortemente indebolita però vado subito alla domanda al solo la questione è che fine hanno fatto le nostre classi dirigenti anche in Italia perché io ricordo qui addirittura la cosa visto che citavi l'Afghanistan e la l'invasione russa in Afghanistan e i mujahidin era forzata in una potenza straniera qui ho una un intervento di Giorgio Amendola alla direzione in una regione del partito comune del pc allora prima poco prima dell'invasione ad invasione avvenuta prima c'era stata una discussione perché Amendola passava per un liberale interno però uno streno difensore dell'unione sovietica e molti non capivano e qui c'è stata una direzione dove Amendola rispose in modo molto brusco a Mussi che è coetaneo di Gregorio e con gli stessi studi perché Mussi aveva fatto un intervento dicendo ecco è ora di schierarsi per la pace contro la barbarie sovietica e l'invasione sovietica a Kabul Amendola in modo brusco disse guarda preferisco la stella rossa dei carri armati sovietici ai simboli armati di Mujahideen spinti e istigati da una grandissima potenza straniera eravamo tutti contro Amendola quasi tutto il comitato centrale contro Amendola e a favore di Mussi e il PC non è non era terra terra come siamo oggi quindi questa visibilità ampia questa storia degli americani che vogliono continuare il dominio e che Togliatti aveva chiaro anche quando venne subito dopo la svolta di Salerno venne in Italia Togliatti disse ho l'impressione netta che gli americani vogliono restare per lungo tempo in Europa e per lungo tempo vogliono rimanere e dominare queste cose poi dove sono andate a finire nel tempo arrivare a un Fabio Mussi che pure è persona intelligente non è il primo che passa qui davanti a dire la pace contro la barbarie sovietica e di quella visibilità dove era in quei tempi dove era la capacità analitica di leggere cosa si muoveva nel mondo la seconda domanda è questa tu hai insistito ci hai sottolineato in parte l'indebolimento attuale degli Stati Uniti questo indebolimento attuale interno anche la campagna elettorale tra Trump e Biden è stata abbastanza violenta anni fa violenta nel senso di forte contrapposizione quanto siano loro ancora capaci sia economicamente sia politicamente e sia anche diciamo come forza a parte la forza militare enorme che hanno quanto siano in grado ancora di di dominare visto che ieri si è incontrato col premier cinese con non fate dire il nome cinese però Biden ha detto il cinese ha detto a Biden il capo cinese ha detto a Biden guarda che il mondo è grande è grande i cinesi sono io non ricordo almeno negli ultimi anni aggressioni il mondo è grande possiamo stare insieme in questo mondo perché il mondo è più grande Biden ha detto sì cooperiamo vediamo dove possiamo cooperare finiamo con la rivalità tre minuti dieci minuti dopo l'incontro Biden in una dichiarazione dice il cinese è un dittatore comunista dieci minuti dopo quindi io non capisco adesso vabbè mi fermo qui allora prima domanda perché tutti contra Mendola e tutti hanno perso la visibilità sulle cose del mondo quasi tutti contra Mendola tranne magari Baraloni che Gregorio ha conosciuto bene tranne Ruporini qualcun altro tutti contra Mendola seconda domanda in questa persistenza americana messianica tu hai tirato in ballo il messianismo quanto effettivamente possa ancora durare questo dominio americano insomma così sottile violento insomma ma è ancora pervasivo ecco devo rispondere subito volevo fare una domanda io era fino posso certo volevo chiedere qualche approfondimento sulle lettere che Putin aveva inviato agli americani alla Nato mi pare nel mese di dicembre erano state anche pubblicate su Repubblica di cui credo non sia mai stata data risposta in quelle lettere si ponevano tutti i problemi aperti nel Donbass e dell'applicazione di Minsk cioè la stampa italiana non li ha mai più ripresi come se non fosse esistita quella iniziativa diciamo russa prima due mesi prima di fare dell'invasione ditemi quando devo rispondere vai Gregorio così facciamo cominciamo dalla fine come dire molto lunghe così anche gli altri io avevo preparato ma tra i materiali tutte le tappe i passaggi in cui Putin si dichiara disponibile alle trattative e come la stessa disponibilità degli ucraini sia stata interrotta da alcune uccisioni io ho uno dei libri due libri importanti di questo Jacques Bo Jacques Bo ricostruisce puntualmente ora non è solo le lettere appunto di dicembre in cui sostanzialmente proponeva un tavolo di trattative per risolvere pacificamente i problemi sui giornali è venuto fuori ultimatum respinto sdegnosamente senza neanche essere preso in considerazione come ho detto prima l'ipotesi che stava dietro questo non era di arrivare ad una guerra l'ipotesi era quella che la Russia fosse ormai diventata talmente debole che potesse essere stroncata dalle sanzioni e lì l'importanza di Glazie perché dal 2016 si sono convinti e Glazie ve lo dice chiaramente di non potersi più fidare degli occidentali degli europei per cui hanno continuato a proporre trattative ma si vissi pace ma parabello hanno preparato anche la guerra come la guerra non solo armi ma soprattutto finanziariamente soprattutto ed ecco attenzione perché economia e lì c'è il punto di differenza rispetto agli Stati Uniti perché dice Emanuele Toddo uno che mi ha aiutato moltissimo a capire dice questa guerra è un grande test di realtà perché mette allo scoperto la differenza che c'è e che noi facciamo fatica a cogliere tra finanza ed economia tra economia reale ed economia fittizia ora la Russia in questi anni ha fatto passi avanti intendiamoci è ancora molto indietro rispetto a noi in alcuni settori in altri no Toddo sottolinea per esempio che la Russia è esportatrice di centrali nucleari ha costruito cose che gli altri non sono riusciti a fare missili ipersonici cioè in alcuni settori è all'avanguardia e che imploma ogni anno il quadruplo degli ingegneri americani allora questi sono dati che ricavo da un libro di David Tertree se volete ma che toccano appunto la Russia e gli Stati Uniti le differenze e il confronto per cui l'ipotesi e poi c'è la Russia potesse il basso consumo dei cittadini eccetera l'economia reale di cui parlare sì l'altra l'altra domanda Gigi che è importantissima ti rimando se vuoi poi ti do il link anche lì è un tema dibattutissimo in Francia dibattutissimo in Francia e la risposta è la risposta è corrotti o sedotti sedotti o corrotti c'è un'intera trasmissione proprio di Emmanuel Todd dedicata alle elite europee allora io la distinguerei da quella degli anni 70 perché negli anni 80 l'abbiamo visto in Italia del resto in Italia come dire le elite si sono completamente piegate ai diktat di Washington e allora una 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 trasmissione insomma di 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 Emmanuel Todd le elite europee abbandonano il loro potere agli americani se vuoi poi ti mando il link ma basta cliccare Emmanuel Todd elite le trovi quasi subito e vedi che è un problema chiave questo è un problema con la conseguenza che le elite devono riuscire a governare con una minoranza perché dappertutto la frammentazione dell'elettorato porta alla possibilità di governare col 20-30% dell'elettorato eh che corrisponde appunto alla società che riesce a bene male a galleggiare o a stare bene in questo sconquasso che ci sta preparando dunque è un tema chiave questo è un tema chiave ed è proprio io perciò ho detto di catastrofe intellettuale morale eh e noi lo vediamo ce l'abbiamo sotto gli occhi il problema è di riuscire a individuarne ragioni profonde e a dare una risposta cosa tutt'altro che facile se c'è altro altre domande altre precisazioni insomma ti ho chiesto la parola sì ma come si chiama perché ZX user che significa va bene siccome siamo spiati ah va bene siccome siamo spiati ho preferito questo prego 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 io la conosco lei non si ricorda di me ma l'ho conosciuta molti anni fa soverato e anche a Berlino non so se si ricorda professore bevi d'acqua Tonino Perna no chi è Tonino Perna no senta allora la domanda è c'è la domanda questa ricca e interessante lezione mi ha fatto venire in mente la guerra in Iraq la prima guerra quando Saddam Hussein invade Kuwait e da quello che da alcuni documenti che uscirono fuori allora alcuni analisti credibili sembra che Saddam Hussein avesse chiesto per via informale naturalmente ma aveva chiesto verso l'ambasciatore americano in Iraq se se avesse preso Kuwait per vari motivi che lui metteva sul tappeto cosa sarebbe successo se gli americani insomma avrebbe avuto una sorta di via libera quindi cadde nella trappola e poi ci fu quell'assurda guerra di tutto l'occidente contro Saddam Hussein la prima volta e la seconda ancora più grave perché fu Blair che sostenne famose armi di istruzione di massa quindi il fatto che Putin è caduto in una trappola ma c'era caduto Saddam Hussein e proprio in mente ci sono caduti molti altri nella storia cioè è una strategia una volta avessi un libro che può essere discutibile ma è interessante sull'incendio di Roma da parte di Neroni sembra che lui non l'abbia direttamente ma ripeto da prendere con le pinze però è interessante non sia lui ma sapeva chi lo faceva e gliel'ha lasciato fare sono convinto altresì che Netanyahu ma qui abbiamo dei documenti che sono stati discussi anche al congresso americano Netanyahu sapeva dei servizi segreti egiziani che Hamas si stava armando pesantemente perché i missili non è che passano dall'aria devono passare per forza dalla Russia tutte le armi di cui si è dotata da molti mesi mentre in passato interveniva e bloccava quando aveva questa informazione l'ha lasciato fare perché voleva l'attacco cioè Netanyahu per salvarsi perché era in grande difficoltà quindi mi sembra che sia una strategia come dire storicamente che potremmo ritrovare in più volte purtroppo devo dire ci è andato di mezzo due popoli quello ucraino e quello russo in una guerra assurda e che Putin ha probabilmente vincerà alla fine ma con diciamo con tutte queste vite umane che si sono sprecate perché anche lui è caduto in una trappola solo questo volevo dire sì per quanto riguarda il Kuwait sono esattamente della sua della sua opinione ora non riesco a trovare il brano ma è da documenti e testimonianza ormai è acclarato che è così è acclarato tra l'altro Saddam Hussein era stato finanziato dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Ira era stato finanziato dagli Stati Uniti insomma e Putin si è caduto nella trappola non lo so perché uno dei suoi ministri più importanti appunto Glaser dal 2016 sostiene che la guerra è inevitabile inevitabile cosa vuol dire sic tantibus rebus cioè fino a quando c'è il progetto americano di dominio mondiale magari trincerato dietro un problema è uno scontro di civiltà e di valori e questo è un problema enorme che va come dire discusso in tutte le sue diverse componenti perché noi ci troviamo in effetti a dover come Daniel Esberg a dover svelare le mosse dello Stato dell'elite dentro cui noi siamo e con cui ci identifichiamo insomma con cui ci identifichiamo l'Occidente quindi il problema è di capire e di farne oggetto di discussione ampia cosa l'Occidente intende fare dei suoi valori in un contesto diverso in un contesto che è quello in cui i paesi che noi abbiamo colonizzato per mezzo millennio perciò stavo dicendo ho l'impressione che viviamo una svolta tettonica talmente profonda che ha a che fare con la svolta storica impressa diciamo da Colombo e poi dalla rivoluzione scientifica quindi dalla supremazia tecnologica e militare eccetera adesso come dire le cose stanno cambiando e allora la domanda è quella che diceva Gigi insomma cioè se noi riusciamo a convivere insieme a convivere civiltà diverse collaborando questa è una una delle una delle idee chiave del progetto di Gladi collaborare e non competere e non competere collaborare allora la sfida la sfida che noi abbiamo davanti è questa non fare il tifo non fare ma lavorare concretamente per una società che sia in grado di tenere insieme le sue diverse anime anche quella israelo-palestinese perché anche lì come dire è stato un punto davvero di scontro tettonico insomma le cause ma la sfida è quella riuscire a far convivere mentalità idee ho trovato su questa su Whatsapp che è un articolo un intervento molto bello di Costa in cui denunciava il fondamentalismo religioso di certe posizioni l'incapacità ormai di riuscire persino a pensare la coabitazione in fondo tra ucraini e israeliani c'è la stessa difficoltà e anche i palestinesi ovviamente nella misura in cui soprattutto storicamente come dire hanno avuto difficoltà e si capisce insomma anche ad accettare la convivenza con un ingombrante vicino insomma ma la sfida in questo caso come dire lasciando da parte la storia io uno dei libri di cui sono di cui ho fatto esperienza traducendola appunto di Renà che cos'è una nazione una delle definizioni più belle è che la nazione è fatta anche di oblio non solo di ricordo ma di oblio alcune cose bisogna dimenticarle perché se noi le reattiviamo riportiamo in superficie quello che ci ha opposto gli odi che hanno caratterizzato in alcune fasi in fasi diverse insomma della storia popoli e regioni diverse insomma e allora la sfida che sta davanti questo e questo sia di un regime politico sia delle forme appunto di convivenza sì sono totalmente d'accordo il problema ci porterebbe molto lontano la discussione purtroppo esiste un'industria delle armi che come base materiale di tutto poi quello che succede non per essere vedo il marxista ma finché si producono armi e queste industrie delle armi sono delle lobby potentissime si inventa delle guerre purtroppo la convivenza sarebbe ideale io sono stato con Alex Lange nel 93 in Palestina e lui all'università Birzeit ebbe il coraggio di dire no a due stati e due popoli ma a uno stato con due popoli perché la convivenza noi altoatesini l'abbiamo imparata perché è possibile perfetto prima ci mettiamo le bombe lui di origine tedesca e poi invece come abbiamo visto si convive bene da più di 60 anni direi con due tre quattro popoli anche insomma c'è una capacità di convivere insieme perché ormai siamo siamo ecco invece di etnicizzare di racchiudere in comunità la capacità di dialogare e questa è la sfida dei prossimi decenni e secoli forse se ci arriviamo grazie sono totalmente d'accordo molto bello grazie posso fare una domanda al professore certamente salve professore noi ci siamo conosciuti alla biblioteca Canova il 31 marzo scorso siamo da Foggia si si Antonio e dica adesso io ho seguito con molta attenzione anche grazie alla segnalazione di Rita Bruschi che è fra i 32 qui partecipanti questa sua esposizione molto molto lucida molto mi dica in Italia la classe politica insomma compare in tv a litigare a fare a fare show insomma ci può stare qualcuno che apra un po' gli occhi su queste cose tutto qua purtroppo devo dire no nessuno perché anche Conte quando parte dicendoci un aggredito e un aggressore cancella la storia la storia è ingombrante la storia è ingombrante la storia ci pone di fronte a dilemmi drammatici io perciò ho voluto come dire fare questa esposizione all'insegna di Daniel l'esberg cioè di quello che ritengo rappresentante di quella che è la vera America l'America che noi vogliamo salvare e portare avanti conservare l'industria delle armi invece ecco la vittoria dei neocone è la vittoria di un settore preciso della produzione gli Stati Uniti hanno delocalizzato gran parte dell'apparato produttivo in una delle statistiche ho letto hanno dal punto di vista delle strutture industriali il 7% della loro ricchezza al pari dell'Italia la Cina ha il 30% dell'apparato industriale per dare un'idea ma l'industria delle armi assieme all'industria delle immagini e quindi del consenso e alla finanza sono i tre capisalti della loro ricchezza che non corrisponde è quella di cui gli uomini hanno bisogno perché gli uomini hanno bisogno innanzitutto di mangiare di vestirsi di nutrirsi e questo si fa soprattutto nel terzo mondo e allora in Italia nessuno affronta questo discorso ed è una tristezza voglio dire anche chi della guerra della lotta alla guerra quindi della pace fa giustamente una bandiera e io ho partecipato alla mobilitazione di Santoro ai primi di maggio però il discorso che si fa l'analisi l'analisi che si fa è un'analisi deficitaria perché l'analisi deve partire da quello che questo straordinario personaggio che voglio tornare a nominare appunto Maglio Dinucci ci mette sotto gli occhi questo è il progetto che hanno per la Russia possiamo noi ma questa è una dichiarazione di guerra insomma quel documento è una dichiarazione di guerra come si fa a leggere un documento di quelli senza rabbrividire senza rabbrividire e senza porsi il problema di come creare portare avanti un'elite che rinunci rinunci alla forza accetti appunto come diceva la convivenza e la sfida bisogna portare a questo invece d'altra parte come ricordavo e come ho notato con dispiacere Bresischi l'Italia non la cita non la cita nel grande scacchiere non c'è posto e noi siamo siamo destinati come dire ad essere come siamo stati per secoli ahimè non bisogna mai rinunciare a pensare a riflettere in fondo questo è un tassellino che diamo ad una presa di coscienza all'altezza dei drammatici problemi del nostro tempo bene grazie a piacere averla rivista io mi ero mi ero iscritta per fare una domanda spero di riuscire a farla allora innanzitutto la ringrazio per la complessità della sua analisi e devo dire che devo risentire assolutamente grazie poi a Morea devo risentire la sua conferenza perché non mi sento minimamente di cioè penso che vada veramente studiata assieme ai documenti che ho proposto volevo solo però fare due osservazioni la prima è che io sono stata appunto a Kiev durante la guerra e ho incontrato con il movimento di azione non volente abbiamo incontrato i giovani appunto di Kiev e devo dire che loro hanno un grande desiderio che è quello di essere di vivere la loro vita normalmente in Europa senza appunto tutti quei rischi che invece purtroppo anche dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica sono assolutamente d'accordo con lei che va tutti inquadrati in quella in quella prospettiva li costringe a fare insomma per cui ho sentito veramente in loro un anelito semplicemente di è un desiderio profondissimo di essere e di vivere in modo libero di poter esprimere quello che ritengono di dover esprimere e di poterlo fare in una condizione appunto di pace e è ovvio che da questo punto di vista per loro Putin è quello che descrive la Poliposkaya che a me ha colpito sempre molto il suo libro La Russia di Putin perché comunque è una testimonianza di quello che lei ha vissuto e io peraltro ho avuto modo di conoscere persone che l'hanno conosciuta e quindi cerco sempre di avere anche una visione delle persone sulla base delle esperienze proprio personali e quindi questo è una domanda che proprio le pongo ma queste figure che hanno svolto questo ruolo fondamentale che comunque hanno pagato con la vita come stanno pagando i giovani appunto ucraini cioè io e le giovani ucraine tante donne ecco io ecco questa è una domanda che mi pongo dall'altro lato e l'altra considerazione e credo che ci sia da parte nostra nella nostra cultura una visione del conflitto assolutamente cioè sbagliato un'elaborazione del conflitto sbagliata insomma mi riferisco all'analisi che fece appunto in un bellissimo testo Fornari e il gruppo appunto di Fornari di Basaglia eccetera proprio sull'elaborazione del conflitto e su come questo porta appunto a questa cultura poi della della guerra e quindi l'altra mia domanda è quali prospettive possiamo mettere in campo nel nostro paese io penso che l'educazione alla pace e qui è stato citato Langer vorrei ricordare questo bellissimo libro che noi premiamo come fondazione Langer la storia dell'altro israeliani e palestinesi scritto appunto da un palestinese da un israeliano con la necessità e il desiderio di capire proprio la storia e il punto di vista dell'altro che secondo me è fondamentale per essere e per realizzare poi nella concretezza la convivenza e rispetto invece alle armi sono d'accordo con chi ha parlato precedentemente e volevo però dire che c'è una proposta di legge che già io raccolsi le firme con allora la senatrice era Laura Cima e fece una bellissima proposta di legge per la riconversione dell'industria bellica in industria ecocompatibile ma nessuno anche nella sinistra si diede da fare perché questa legge potesse iniziare a diventare realtà perché se noi non riconvertiamo l'industria bellica non credo che salteremo mai fuori da questo disastro appunto della guerra sono d'accordo sull'ultima sull'ultima parte riguardo alla prima io vorrei avere qualche oretta forse anche di più per capire meglio cosa vuol dire vivere in Europa eh perché il punto è quello ha perfettamente ragione il giovane di voler il giovane di chi di voler vivere liberamente sul fatto di vivere in Europa vorrei qualche precisazione perché l'Europa in cui ci ci stiamo vivendo negli ultimi trent'anni se prendiamo dei dati vediamo è un'Europa in cui si privatizzano si privatizza tutto si riducono le pensioni costringono danno totale libertà di movimento ai capitali per cui chi ha soldi si trova bene chi non ne ha si deve muovere e arranciarsi vivere in Europa è giusto è bello ma bisogna capire cosa significa nel caso dell'Ucraina per quel poco che ho capito l'Europa significava soprattutto deindustrializzazione ruralizzazione anche perché come è successo in gran parte dell'Europa occidentale orientale sono diventati sostanzialmente fornitori di mano d'opera a basso costo ecco della storia del salario minimo per tornare ad Antonio anche insomma no che è una bandiera però nessuno discute come mai in Italia c'è il salario i salari sono bassi e forse questo ha a che fare con problemi che non si riescono a vedere allora il ragazzo di Kiev quello che non vede è giustissima l'aspirazione è che la libertà si costruisce anche creando una società che dia un lavoro giusto dignitoso retribuito come dire in maniera dignitosa insomma ecco e invece quello che sta succedendo lì è esattamente un gioco un ballo condotto dai cosiddetti oligarchi le consiglierei di ascoltare io mi sono preso la briga e la fatica di tradurre anche il bellissimo intervento di Bruno Drvesky e dice l'Ucraina aveva tutte le condizioni al momento della separazione dall'Unione Sovietica per diventare una nazione una nazione all'avanguardia aveva aveva terre fertilissime un'industria importante una manodopera acculturata ben preparata ma era un paese diviso e gli oligarchi hanno fatto leva sulle divisioni come del resto in Italia ne sappiamo qualcosa insomma gli anni 90 sono stati gli anni del leghismo è riuscito una forza politica ad inventarsi delle differenze per cui si contrappone il nord e il sud poi cambiano anche dimostrando che erano come dire strumentalizzazione elettoralistica però che sono state come dire hanno avuto effetti importantissimi in Ucraina questo è sovrapposto su uno strato già terribile e tragico insomma fatti di cui noi non abbiamo idea allora è giusto ma una puntata bisognerebbe dedicarla a cosa vuol dire oggi vivere in Europa perché l'equivoca è forse lì cioè l'Europa da un lato è il giardino di cui parla qualche scriteriato dirigente appunto della Commissione Europea e in realtà è diciamo una zona del mondo che sta arretrando che sta arretrando si sta deindustrializzando le differenze le disuguaglianze si stanno accentuando fino a livelli di insostenibilità allora l'Europa non è un giardino l'Europa è un luogo in cui un sistema economico sta portando al collasso siamo andati avanti insomma va bene sei scomparso Gregorio no sono qua allora ecco se non ci se non ci sono altre domande allora torniamo a ringraziare di cuore e convintamente Gregorio sia per la sua magnifica lezione sia per le argomentazioni con cui ha risposto ai vari quesiti posti credo che davvero con questa serata abbiamo dato un piccolo ma rilevantissimo contributo di conoscenze di verità storica a una pagina drammatica della nostra storia recente e quindi raccomando davvero tutti di fare la loro parte quando invierò quando invierò quando Roberto Morea mi darà la registrazione prego prego tutti quanti di farla circolare il più ampiamente possibile grazie a tutti vi ricordo che ci rivediamo giorno 30 novembre alle ore 18 come al solito per la lezione del professor Fabio Fabri sul tema la guerra civile in Italia e l'avvento del fascismo grazie ciao Greg buona serata a tutti ciao a tutti grazie ciao buona serata grazie buona serata grazie buona serata grazie buona serata buona serata ciao Carla ciao 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 e grazie a tutti ciao 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 buona serata a tutti buonasera ovviamente con noi in sala e buonasera a chi ci segue Taremoto è la nostra consituzione di svolgere tutte le informazioni di vista sia per quanto al pubblico sia per quanto al pubblico ma noi abbiamo qui con noi con il pubblico i due autori del libro Peter Bruschi Gregorio De Paola Franco Monaco a parte e abbiamo Taremoto un altro interlocutore che era un'acqua e quindi non c'è salutare che la mia rispondono a quale la sua discussione non è un conflitto è un lavoro accurato è un lavoro che ha caratteri quindi il risultato lo è che lo dico non criticamente appoggetico non ci vedo nulla di male tanto più in un quadro diciamolo pure di tutt'altro segno dove larga parte del migliore intellettuale pratica che già si oggettiva di coerente del 2018 questa tesi della sua credito alla favola è naturale io me lo auguro un terreno proprio della politica su visioni e su programmi a mio avviso se il movimento superpelle vuole darsi un futuro non ha alternative a Conte indietro a mio avviso non può tornare il dibattista di turno se ne facciano una ragione ma Conte deve riuscire a dare al movimento una identità politica riconoscibile dico subito che il libro deve essere stato notato sia da capelli che che Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.